Ciao ragazzi, sono Blufire e siete nella BlufireTV E oggi iniziamo un gioco chiamato Rectagon Che non ho mai visto da nessuno Ora Tolgo la musica con M Ok, perfetto E iniziamo, si gioca col mouse Muove, uite, uite, uite Forse sono sopravvissuto Dovrebbe essere uno di quei giochini psichedelici Dove dovete fare tutto Così, a cavolo Oh, si, si, si Sono un grande, sono un pro No, sono morto Wow Ok, clic per la nuova modalità Ho sbloccato Questa qui era la Skyfall Ora c'è la Classic Iniziamo No, no, no Restart Ok Oh, è stupendo Cioè, è orribile e stupendo contemporaneamente Sì Ce l'ho fatta Non sono un grande col mouse, però Ce la posso fare Cinque Sì, sei Sì, sette Oh Otto Nove No, vabbè Eh You are or score Forse Flicks to the star Ah, forse devo fare almeno tredici Quanto ho capito Due Oh, forse non ho capito, ragazzi Aiutatemi Sto gesclerando Tutti sti colori Proviamo ad andare al menu No, score Cinque Best Die You are or score Back to menu Vediamo Classic Ah no, devo farne tredici Ok, perfetto Giusto per saperlo Perché Già bisogna avere pazienza Con un gioco simile Uno Due Tre Quattro Vi consiglio Oh Se volete giocarci Di tenere Il Il mouse Più al centro possibile E poi dovrò Assolutamente aumentare La sensibilità del mouse Per giocare A un giochino così orribile Ok Ok, ragazzi Centrale il buco L'importante è Centrale il buco E' bello che accelera ogni volta E cambia colore Sì Sei No No Stupido gioco Sei orribile Ok, 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 ok Oh Sì, sì Il livello blu di blue fire E' facile Quello verde E' ancora fattivo Quello verde E quello blu di blue fire Si può fare Questo è bluissimo Quindi è facilissimo Il sette No Il sette porta a siga Ragazzi Oh Le pareti si avvicinano Oh Sembra tipo ricordo Una di quelle Trappole egizie Comunque No, 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 no Allora Lo faccio ancora un po' di volte E se non riesco Vi faccio poi vedere La nuova modalità Appena la sblocco Quindi proviamo ancora Secondo me bisogna stare tipo No, no, no Non funziona neanche così E' proprio casuale La cosa Random Livelli viola Ce n'è due Però Tre buchi Boh Non capisco Verde Ok, quattro in basso Cinque qua Sei qua Ok Sette No E dovrebbe anche essere Felo facile questo Perché è una modalità classica Cioè fare tredici Dovrebbe essere una sciocchezza In realtà ragazzi Vi assicuro che Non è per niente facile Sì Dai un po' di volte in mezzo Magari Sì 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 Geronimo No Non ha funzionato Ok Uh Rosso 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 Più non posso Viola 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 Sto scriverando Ragazzi Questi colori Prendete La vostra pozione arcobaleno Frullatera In un In un Negozio di caramelle No Frullate il vostro lecca lecca Nella vostra pozione arcobaleno Terrete questo giochino Mamma mia Dovreste vedermi in webcam Non voglio spoilerare Voglio tenerla per un Qualcosa di speciale Oh Oh Epico 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 Quasi epico Quasi Quasi epico Sette Otto Chi Chi è mai così pazzo Da fare un giochino simile Dieci No Mamma mia Uno Conto alla rovescia Due Alla mia morte Alla mia morte al due No Al tre La prima si perdona La seconda si bastona E la terza si Culone Oh No La quarta La quarta è andata La quinta è andata Andiamo sempre più veloce La sesta Sì Ci siamo La settima L'ottava La nonna La nonna Decima Ci siamo Undicesima Sì Undicesima Sì Sì ho sbloccato la nuova umanità Figata Ok Eh Cioè ho sbloccato Middle mode Devo farne 5 Uno Oddio questo cos'è No cambiano anche le cose laterali Questo è proprio da Questo è un gioco per i pazzi No 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 Siamo pazzi Ok You are Almeno Ah devo sbloccare anche qua 13 Ok Ragazzi Se seguite queste let's play Siete dei pazzi anche voi Ve lo assicuro Pazzi Se volete Se volete Crullare Tutti I colori del mondo Sì 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 Questo si chiama Let's play Undici No 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 Ce ne mancavano due Ce ne mancavano due Ok Giallo Giallo Verde Arancione Arancione Verde Giallo Basta che non mi chiedono di ricordare i colori Perché sarebbe una di quelle cose per cui potrei veramente impazzire Potrei andando anche attaccarvi un po' di musichetta Otto Nove Dieci Undici No qua si tratta prevalentemente però di andare solo su e giù Quindi dovrebbe essere più facile teoricamente Teoricamente Cioè ho capito questa cosa solo adesso Dopo tipo Dieci morti Ok quindi ci siamo Questo mi sembra un buon punto anche Non era un buon punto Non era un buon punto Ma sono passato comunque Sì Sì Ho sbloccato la nuova modalità Ok Proviamo la nuova modalità ragazzi Allora Tombler mode Eh Ok Ragazzi io non so quanto stia giocando sto durino Comunque Durando sto giocando Oh no no Cosa succede? Wow Ma quello lì come si passava quel livello? Ok No scusate Roll it boy Sì 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 Uno Due E questo? Ah ma tipo Sono diagonali No no Oh No mi stavi facendo impazzire alla grande Ragazzi ma Ma No 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 Non ci posso credere Non può essere così Lo faccio per voglio Perché Cioè fare un giochino del genere Io Cioè ragazzi Non registro altro questa sera Prendi piatto Prendi piatto Prendi piatto Blu 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 Vinco Sì ma poi cambia il colore anche il mio personaggio Questa è la cosa che mi fa stressare Oh Sì 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 No no Non girare il mondo Non capisco più qual è il suo e il giù Cioè Dico destra sinistra in realtà No Sette Devo fare tredici anche qua Questo veramente può risultare difficilissimo Non so se ce la faccio ragazzi Se non ce la faccio il let's play finisce qua Se volete un'altra parte Bene scordatevelo Scordatevelo perché Fa veramente sclerare Oh Registrerò più non posso Sì Sono al 5 No Allora Finché ho pazienza andrò avanti Finché ho pazienza andrò avanti Potrebbe diventare quasi uno speciale sto gioco Perché voi Oh Aumentate così velocemente che Non posso capire a quanto siete Iscritti Oh Ok Ragazzi se il video di sponsor non è già uscito Lo uscirà breve Lo ammetto Io vi sto guardando tutti i canali Ok Arancione 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 Babbiolo Arancione Blu 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 Fire Viola 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 i fiori Rosso 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 No Non è più rosso Viola Verde Verde Mi prende Sette Sì sette No Cavolo Sette Non devo più contare Il nome Sono giallo Come il sole Questo è un gioco Che farebbe impazzire Qualsiasi less player Lo consiglio anche a quelli famosi Che non hanno mai fatto Visto un gioco simile E il bello è che si gioca solo col mouse Pensate se ci fosse qualcosa Che implementerebbe questo gioco Con le freccette Sarebbe una cosa da pazzi Comunque Allora Proviamo a concentrarci No Concentrarci non funziona Bisogna giocare easy Ok Giochiamo easy Ok Easy Vai easy Parlo di quando Di quando avevo 5 fan No Non avevo mai avuto 5 Sono passato da 4 a 6 Poi si sono 10 iscritti Ok 2 Stupido Cosino Ok Sì 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 Ci siamo Ok 5 Sì Non contare 6 Ok Sono grigio Ok Ok Basta dire ok Non Non devo più dire ok Click the smash Don't get smashed Do it tomorrow Ma mi diceva anche una cosa Una frase Cioè questo gioco Mi parlano anche Oh ok 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ragazzi ho sblocato la nuova modalità E questa parte finisce qua Perché se farò la prossima E Sappiate che Siete veramente fortunati A scoprire come la nuova modalità Posso anche solo farvelo vedere Ma Se è troppo difficile Unirò quel prossimo video a questo Altrimenti Altrimenti vedrete tutto il prossimo video Bella qua Bluefire da Bluefire è tutto Bye bye Bella ragazzi Ciao Supportatemi con un bel mi piace Perché è stato veramente Incredibilmente difficile Sto sudando Bye bye